Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna, Cora per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio A1 variante. In A12 viaggiando diretti a Genova, traffico bloccato per incidente tra Deiva Marina e Sestri Levante. Si viaggia ralentati per lavori in Fipiline entrambe le direzioni tra Ginestra e Montelupo Fiorentino. Per lavori di qualificazione tra Montelupo ed Empoli Est è stato prorogato il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze con la completa chiusura della carreggiata in direzione Mari. Lo svincolo di Montelupo resta chiuso in entrata verso Firenze e in uscita provenendo da Livorno. Sul raccordo siena Firenze riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e San Donato. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!